Bene, perché era un atto dovuto, era stato redatto dalla giunta precedente, quindi noi ne abbiamo rilevato la congruità formale, i revisori hanno confermato che si tratta di una scrittura contabile assolutamente perfetta dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda i contenuti poi analizzeremo successivamente tutto alla luce anche delle nostre nuove emergenze che sono quelle relative al bisogno di risanare il Comune. Cosa cambierà adesso per l'abilitazione comunale con questa approvazione? Cambia il fatto che intanto abbiamo regolarizzato una situazione che era rimasta in sospeso, il bilancio consolidato è molto importante perché dà l'idea dell'insieme delle attività del Comune, soprattutto delle partecipate, ci mette nelle condizioni di adempiere ai primi compiti come ad esempio la regolarizzazione di una parte del personale, ma soprattutto chiudiamo un capitolo e ne apriamo un altro.